Perchè dobbiamo negarle il diritto di scegliere? Io penso che si potrebbe parlare di diritto di scegliere se oggi in Italia ci fosse per esempio l'applicazione delle leggi palliative. Ci sono degli studi, non fatti da me dall'università, per cui nelle regioni dove ci sono più pazienti che riescono ad accedere alle cure palliative, i pazienti sono il 38%, cioè vuol dire 3 pazienti su 10. Per cui secondo me è importantissimo che lo Stato si preoccupi di far vivere dignitosamente le persone che stanno soffrendo, ma nessuno dice che le persone devono soffrire. Ci sono delle cure palliative che possono essere somministrate perché si possa accompagnare un malato a vivere dignitosamente e anche a morire senza soffrire, perché ci sono questa possibilità. Allora io penso che lo Stato debba intanto impegnarsi tantissimo perché queste cure palliative possono essere al 100% per gli adulti, al 100% per i bambini, i bambini non riescono ad accedere alle cure palliative. Allora poi dopo si può sostenere che ci possa essere una scelta, ma se la scelta è ti abbandono a soffrire e non è dignità e la morte, ma forse ciascuno di noi se fosse abbandonato e calpestato alla fine direbbe ma vi prego ammazzatemi. E c'è un altro dato che in tutti quei paesi dove si è cominciato ad aprire al suicidio assistito e all'otanasia per le persone particolarmente sofferenti poi a un certo punto c'è quasi una cosa per cui dalla domanda quasi cerca l'offerta nel senso che le cure palliative a quel punto non si danno più perché costano di più rispetto al suicidio assistito e all'otanasia e si rischia che addirittura si vengono accettate l'otanasia o il suicidio assistito per persone depresse come sta succedendo in quegli stati dove ci sono da tempo queste leggi. Allora forse accogliamo il diritto di vivere dignitosamente dei malati. Allora provo a rimettere in fila le...